Buongiorno, se vuole presentare e dirci di cosa si occupa. Io sono Catiscia Pasqualini, sono Account Director in Consodata per l'area Business to Business e mi occupo di sviluppare l'offerta a supporto dei mercati B2B per la nostra forza vendita di Key Account e PMI. Oggi ha tenuto un workshop, di cosa ha parlato? Il seminario tenuto questa mattina aveva come oggetto la condivisione di un nostro caso, una case history sul nostro prestigioso cliente, Accor Services, dove l'esigenza fondamentale era quella di poter aggiornare il proprio database clienti per individuare le caratteristiche dei loro clienti da riproporre in un mercato di prospect. Quindi partendo da quella che è la banca dati dei clienti, l'acquisizione delle nuove informazioni per poter decidere le strategie da utilizzare in un nuovo mercato di concorrenti per l'acquisizione di nuovi potenziali clienti. Noi li abbiamo supportati in questo progetto di qualificazione del database, l'individuazione dei mercati potenziali e la fornitura di nuove anagrafiche sulle quali poi successivamente Accor ha sviluppato delle attività di marketing commerciale e di comunicazione. Smao si rivolge ad imprese pubbliche e private. Quale consiglio darebbe a queste imprese in questo momento? Ma in questo momento dove il mercato dei competitor è forte, indubbiamente è molto più difficile catturare l'attenzione dei nuovi potenziali clienti. Quindi partire un attimo facendo un passo indietro, partendo dall'analisi del proprio database, comprendere meglio che il nostro cliente, quali sono le evoluzioni nel tempo di questo nostro cliente, intercettare quelli che sono gli elementi più importanti, fondamentali, e solo allora comprendere il mercato dei nuovi da acquisire e pianificare delle strategie nuove, ma sempre sulla base del valore acquisito nel corso degli anni dai nostri clienti. Grazie per essere passata da noi. Grazie, buona giornata.